Allora cosa ci dice della situazione di oggi? Ciao, sono Luqman. Anche un'altra quattro persone con noi. Noi lavoriamo a Polisella a UDLU. Anche un'altra agenda a Romainola fino all'editorio. Noi iniziamo a lavorare alle otto mattina fino alle sei, sei mesi alle sera. Con la pausa? La pausa venti minuti, venticinque minuti, solo per mangiare. Noi lavoriamo in campagna anche fuori di campagna. Pulisci l'aglio, tagliate la barba, tutti per l'aglio. Lavorate dal lunedì al? Lunedì noi lavoriamo alle sei giorni. Lunedì, sabato, tutti i giorni, ogni giorni è dieci ore, dieci mila ore. Ok, dieci ore al giorno. Sì. E comprese le festività Natale, Santo Stefano? Dal contratto di lavoro, ecco quattro ore, anche un'altra persona tre ore. Va lavorando dieci ore, solo per tre ore per un'ora. Molto poco. Ok. Quindi tre euro all'ora, trenta euro al giorno. Sì. Qualcuna persona ventotto, trentuno euro, trenta euro. Minimo, minimo, trenta euro per un'ora. Ok. Bene. E dicevi che fate il lavoro anche per altre aziende grandi come Romagnolo. Sì. Allora. E a composta Grazie a tutti